wow ragazzi ben ritrovati sono sempre il vostro mitico Sandro Stark e quest'oggi ci troviamo in compagnia del The President allora qua Sandro oggi non si è regolato ha voluto provare la demo di un gioco stranuovo che si chiama PT che sarebbe la demo giocabile del nuovo Silent Hill con il simpatico Norman Reedus che pure qui non si è regolato io gli ho detto giochiamo a Disney Infinity non ci ha voluto giocare io c'avevo Ralf ero pronto a spaccare tutto qua invece niente non si è regolato siccome da solo non ci sono riuscito perché ho spento praticamente all'avvio ha detto vogliamoci in due a fare questa cosa magari non è una cosa io ho invitato Sandro Stark a rimanere a dormire a casa mia anche perché io da solo come potessi giocare io ho miseramente rifiutato ognuno deve vivere con i propri demoni direi che siamo pure pronti andiamo verso la morte partiamo ci proviamo dai beh già questa è una schermata bellissima molto piena si è schermata poi se riuscite a sentire c'è anche un grillo fuori se la canta e se la suona da quel conto su è una schermata molto piena di significato direi che il gioco si è bloccato lo siamo chiusi ecco ecco il presidente qui vicino ha proposto di farla luci spente ma ho attaccato al cazzo si è bloccato dai diamo no non si è bloccato ma parte, dica riparte ahia alziamo pure il volume del televisore perché noi vogliamo essere cattivi Inizia con il tizio che si rialza da per terra, il presidente ha alzato il volume per morire. Già ci sono troppi rumori! Si è aperta già una porta senza che nessuno glielo chiedesse. Non è arrivato. Questa porta non mi dice nulla di tizio. C'è una torcia, c'è una torcia, dai. C'è una torcia? Non ti preoccupare, basta prendere la torcia e prendere avanti. No, no, no. Ci sono degli scarafaggi in italiano. La porta si è chiusa. Devi aprirmi la porta! Devi aprirmi la porta! No, non ti preoccupare. C'è una torcia. C'è una torcia. C'è una torcia. C'è una torcia. Si è infilato uno scarafaggio. Ci sono infilato due scarafaggi. Tre! Sono andato tutti lì. Che cazzo c'è? C'è un feto. Io già ho giocato a questo simpatico gioco. Oh, ecco la musica che ci piace tanto. C'è una torcia. Madonna, no, workout. È orrente? Ma come una cosa orrenda? Rifatari nascanti in qualche modo, cazzo. Si è aperta. Senti, dopo giochiamo a Crash Per sdrammalizzare un attimino Guardate che c'è C'è niente Tanti rumore, che brutto E' la radio che in teoria si spegne Oh, lasciamo? Oh, già è tutto buio di nuovo La cosa ci rende molto felici Intanto c'è una radio che parla Ma io mi sto piegando in mano No, 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 Dio, questa è cosa Eh? Non fidarti dell'acqua del rubinetto Non fidarti dell'acqua del rubinetto Questa è una delle perle Forse dovrai far qualcosa C'è niente Porco due Vabbè, io non ti dico niente Io già lo sapevo Che avessi reagito così Hai donato un pezzo Ah! Tanti due No No, no, no Spegni, basta Ma che noia E' così che tutte bianche Sapevo che questa sbucava Ma non è come pensare No Porco No, io non posso niente Permettere Se l'ho fatta C'è tipo un infarto in corso Di mortacci sua Perché? Perché? Però adesso c'ho la dolce E sti cazzi C'è una busta La busta si muove La busta si muove Ma che cazzo Non fa me ne voglio andare Ormai sappiamo che la simpatica signora Non voglio guardare Guarda tu per me Eh, intanto ormai il peggio è passato Ma non credo proprio Vai Non toccare l'aria Abbiamo appena incominciato Non finirà a tirare là con l'ubinetta Ancora La me l'ha presa qua Qua sì Non voglio vedere Non voglio Ci sarà qualcosa da fare In questo No, come? Perché la porta è chiusa? Beh, magari si apre adesso Magari c'è qualcuno dietro Allora, non toccare Non toccare l'aria Sì, non toccare l'aria Se apri che la porta C'è pure a girarti Ho paura sì, corpo no 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 non toccherai la radio io la toccherai la radio paura ho paura oddio sta tornando oddio sta tornando questa sbuga non girare il telefono, chiamare il telefono qualcuno risponderà si però porca troia quella non è mai guarda delle spalle ma dai guarda no ho detto guarda no fallo per i tuoi ammiratori Sandro Stark, girati uno, due per ora non c'è niente no raga mi sta affermando il braccio sinistro no no io chiamo la polizia no non ci vuole voi non immaginate non immaginate l'ansia io sento i rumori ma vada avanti più aspetti e più quella sbuca fuori secondo me guarda dove stai entra nel bagno io quando sento guarda 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 devi far qualcosa ah ma non urla senza mani io mi sto cagando oh Dio odio devo girare così odio devo girare così a caso odio devo fà qualcosa ma cosa per Dio del Dio allora stai vuoi leggere queste parole? ti sto aspettando Stai aspettando agli incontri C'è tanto dormire da solo in sanofre, lo sai? Pure tu Ma io a casa mia sto bello A casa mia sto bello Guarda l'orsetto, carino l'orsetto Teddy! Guardalo meglio Non voglio portare niente Io guardo l'orsetto Allora se io quando torso Arriva la madama morta L'ho detto Dio Non si può fare così Ma ancora non è successo niente Adesso che devo fare? E continua a giocare Ora succederà qualcosa sicuro Portarci vostra I'm gonna... Pull in! Pull in! Pull in! Shoot it real! Lay it kill! Too many women with too many buildings Shoot it real! I got my gun! And they're ready Grazie a tutti